O mi dai un bacio, o mi butti? Allora ci tieni a me. Tu sei tutto pazzo con il mio tavolo. Però ti piace. Ma quanto ci conosciamo? Due giorni? Non mi pare che zaccano la vita. Sei brava a chiacchiare tu. Ancora non ne capite, che non sono solo chiacchiata. Ho scritto una cosa per te, si chiama bambini. Io devo andare 5 minuti da Teresa e poi vengo al battesimo. Pazzia, io lo amo. Ciao a cicchiostra, in sedia. Allora voglio un messaggio, per perdere la capa. Noi ci crediamo a noi. Io ci credo ancora. Non mi toccare. Io ti amo Teresa. Sei fatta ancora più bella. Quando io conoscio, l'amse traslutare in. Come una spina e cuore.